Quarto di finale Super Cup, Niuji contro Conto Arancio, 1-0 per Conto Arancio Firo Andiamo alle grandi giocate, forse un piccolo palletto ma l'arbitro non vede Qui, vi brisco Guardate le grandi manovre di Gentile di calcio, 5 tiro, mamma mia Gioca, Gianni, Gianni, Mario, Giovanni, 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 sta Mario, subito, vai su Stannino E' lo so, ma non te lo posso dare sulla vita, ce lo devo vedere io, capisci? Rangolo, la pagina, io vi sto travesti, però non vi sia stato deviato, no Te lo dico proprio sinceramente Io forse il piccolo tocco l'ho vista Si Però sono messe, ho talmente forte il tiro che già abbiamo visto Andiamo di pisco, ah di pisco, non cazzo Entra tu, vai, entra tu a posto di pisco Io vorrei entrare, eh, figuro Trudi Mario, bravo, sento tu qui Oh, Gianni, 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 stanno io che devi seguire Siamo 1 su 1, seguiti Stannino, stai tranquillo Si può dire che questa è la finale Super Cup Possiamo dire Chi vince Possono anche perdere dopo L'importante è vincere questa partita Queste due squadre non ci sono vado solo per questo big match Purtroppo ci arriviamo senza una scuola importante Scuotto? Dov'è? Approcio se non sbaglio Perché sta approcio? Dovrebbe fare la partita qua Ma che scuotto guarda Sbaglio, non baglio, non baglio Come è stato il cuore del quel parato? La nina ha fatto una bella contata in avanti Ha tirato Però Jenny la poteva rendere È passata sotto il braccio di Jenny Sarà bene, non ti puoi dire nulla Jenny Bravo sozzo Ottimo Non ci muoio Ci muoio Faccio un cazzo Ci muoio Non puoi scendere troppo alla fine Vedete se scende qua Ma si sali, ma si sali Ha un po' paura Fabrizio Fabrizio ha un po' paura Di? Non so, è un po' teso Intanto noi perciò non possiamo anche lasciare Se chi si troppa la partita Farebbe sicuramente forte Oh mamma che schifo Vai via, via Complimenti pure per il conto Arancio stanno facendo benissimo San Dino ma è fortissimo Ha fatto un paio interventi prima In difesa Bravo Jenny, va bene così Bravo Fabri Ma non è lei Ti devi azzeccare a quello Gianni, bravo Così Hai messo, quando lì Oh Palco Strucci Bravo A testa, a testa Bravo Bravo Tosso Lascia là, bravi Ascia Tu dove sali tu? Che ne pensi della reazione di quel giocatore prima? Ma no È stata un po' esagerata Sì Gianni Gianni Sali Gianni Manolo devi fare tu qui Fammi salire Manolo è lei Se batte i crispi Dovete scalare voi Gianni Ti devi azzeccare in avanti Azzeccati Ma ti azzeccati in avanti Bravo Stai un po' è bello Sannino Anzillo ancora di più Sono gelosi Oh guarda Gentile Che faceva Con la mano La Trudi Guarda Mati Mati Ti torna pure tu Tu devi stare su Crispino Devi stare Gianni più avanzato Torna tu Giovanni Già Stai più avanzato Tu Crispino Crispino è tuo Come sta gioando Sorrentino Un po' fermo Navas Golla Che grande gol Bellissimo 2 a 0 Conto Arancia Doveva mettere la firma In questa partita Navas Zitti Concentrati Zitti Cosa serve Il tiro Da che trovi Eh ma guarda Che Alla verità La cosa più bella è la vita È rungata Che tecnica Bellissimo A terra C'è lì Fa paura Ok A chi si avvicina Bumba Voleva tirare da là Guarda che Tira Tra centri Ma un periodo C'è lì Il tiro A sinistra A sinistra Fischio io 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 Te ne sei chiamate prima Lanji Eh ma prima le hai chiamate Pule il passaggio No dai Bravo Luca Bravo Bravo Vai ti devi seguire Ci teniamo con uno E meno così Dove devi seguire per forza Siamo quasi a sette minuti Ci diamo a sette minuti perché No no Sette minuti di telecamera Su qualta è Odice 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 L'altro in croce No Ci credo Che sfortuna Odice Odice Gentile in attacco Mastro Vincete la partita Anche nel video E' bellissima Quanto mai Tra qualche minuto Lo può fare Stato questo gioco Infatti non muo Non muoio Non muoio Non muoio Un saluto da Max E da Lorenzo Ciao ragazzi